Il bilancio 2019 come cambia il volto alla TEM? È un bilancio di transizione, di passaggio, anche perché è il bilancio tanto il primo integrale sotto la nostra amministrazione come socio pubblico ed è anche un bilancio nel quale c'è stato l'ingresso del nuovo socio privato con la procedura di Venezia. È un bilancio che conferma il radicale cambio di passo che abbiamo dato alla TEM così come a tutte le partecipate, almeno come linea del Comune di Teramo. Società che devono essere al servizio dei cittadini e non dei politici o della politica come è stato in passato e come per altre società in questo momento. Qualche dato significativo? Abbiamo ridotto fortemente i costi di gestione, i cosiddetti costi fissi che poi sono i costi della cattiva gestione politica di una società ottimizzato invece i costi relativi alla gestione dei servizi in un momento in cui il Comune di Teramo è di fatto l'unico cliente oltre che socio pubblico di maggioranza relativa di Teramo Ambiente e quindi l'unico soggetto che può dare una prospettiva è un futuro. Lo stiamo dando, c'è l'avvio della gara a doppio oggetto che abbiamo già impostato per dare un futuro a Teramo Ambiente. Abbiamo definito, anche se deve essere formalizzato, l'accordo di transazione che risolve il problema ereditato dal passato di 4 milioni di debiti e crediti aperti con Teramo Ambiente scaricati dalle precedenti amministrazioni. Quindi è una società che ha oggi una prospettiva diversa stiamo lavorando per dare una prospettiva diversa al servizio dei cittadini con il Comune di Teramo che deve dare la guida. Intanto cambia l'amministratore delegato, forse a sorpresa. Ma insomma era una intenzione che il dottor Gavioli aveva espresso sui tempi c'è stata forse un'accelerazione ma è una prerogativa propria del socio privato quella di scegliere il suo componente all'interno del Consiglio di Amministrazione. Devo dire che la cosa certo ci lascia perplessi per il lavoro straordinario che ha svolto il dottor Prandin in questi mesi. Un lavoro strategico fondamentale nell'interesse, come è giusto, del socio rappresentato, del socio privato ma anche e soprattutto per il futuro dell'azienda. Un lavoro straordinario che ha ricomposto i rapporti tra socio pubblico e socio privato nell'ottica che dicevo prima che mette il cittadino al centro. Quindi il dottor Prandin va il ringraziamento più sentito e più profondo del sottoscritto ma di tutti coloro che hanno a cuore il futuro di questa azienda e anche dei dipendenti. Comunque il nuovo consigliere di amministrazione, lo stesso dottor Gavioli che ovviamente immagino, come mi ha già espresso, proseguirà nella stessa direzione. Noi come amministrazione comunale continueremo a fare il nostro e continueremo a dare la linea che abbiamo tracciato fin dall'inizio. Questa è la linea futura di Terramo Ambiente, l'unica possibile.